Due minuti, se mi concedi Gian Michele due minuti solo per presentarti rapidamente ai pochi che non ti conoscono. Ricordo che Gian Michele ha iniziato la sua preparazione, la sua formazione alla Sapienza di Roma, dove da subito incomincia a lavorare su questo tema della polis, che è un tema abbastanza centrale nella sua produzione e inizia proprio il suo lavoro su uno di questi centri della Grecia cosiddetta periferica, perché siamo in Tessaglia con la città di Laris. Poi fa la specializzazione a Matera, dove lavora su un altro tema che è Pompei, sono tutti i temi su cui poi sta lavorando ancora adesso, e poi nel suo dottorato di Messina arriva in Epiro. Quindi diciamo che il motivo poi, ora è cultore della Matera dell'Università di Catania, il motivo per cui io l'ho contattato è innanzitutto perché ha pubblicato questo volume molto importante e generale sull'Epiro dei Molossi, sulla Molossia. E poi perché il tema che lui tratta è un tema assolutamente, secondo me, rilevante e fa parte proprio anche della formazione che noi cerchiamo di dare a Bologna, perché visto che ci sono diversi studenti che seguono i miei corsi della magistrale, ma noi da subito diamo questa impostazione sull'archeologia della città. Quindi noi nel campus di Ravenna facciamo città greca, città romana, città antica, dunque l'archeologia della città è centrale. Sia l'archeologia della città, quindi in presenza, ma anche l'archeologia delle zone dove non ci sono città oppure la città arriva tardi. Quindi la città, la polis, è una chiave di lettura di interi territori. E dunque questo lavoro che ci presenta Gian Michele è assolutamente interessante e concludo, ho parlato anche troppo, concludo solo dicendo che questo lavoro lui l'ha condotto sul campo di persona, quindi anche mettendo a repentaglio la sua stessa vita, perché poi ci racconterà bene lui. Però, insomma, questi siti di cui ci parla, questi paesaggi straordinari, sono frutto di una, come dire, di un'archeologia militante. Mi piace ricordare questa cosa, è un'archeologia che va sul campo e quindi, insomma, è un'archeologia che ci piace. Allora, io ho parlato troppo, ti cedo la parola, adesso gestisci tu la cosa. Alla fine mi piacerebbe fare un po' di dibattito, sia con gli studenti che con i colleghi che si vorranno, insomma, collegare nel frattempo. Io lascerei, spengo la telecamera per non appesantire, però ci sono, insomma, voglio dire. Ti cedo la parola e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, quello, insomma, all'interno dei lavori della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, che è il contenitore all'interno del quale, insomma, stiamo operando adesso. Grazie Gianmichele e a te la parola. Perfetto. Allora, sono io che ringrazio lei intanto per avermi invitato e poi per la presentazione. Ringrazio anche tutti i partecipanti. Quindi buonasera a tutti. Diciamo ringrazio per poter partecipare a questo ciclo di seminari molto interessante per me, sia per l'argomento come ha introdotto lei, ma anche perché mi permette di parlare dell'Epiro, che è un territorio che ho imparato ad amare e conoscere in maniera abbastanza approfondita, almeno per quanto riguarda la parte greca. Per chi non fosse pratico di questa regione, l'Epiro è un territorio piuttosto vasto, che è omogeneo dal punto di vista geografico, è caratterizzato da numerose creste montuose e i valli fluviali che lo attraversano ed è individuato fondamentalmente a est dalla catena del Pindo, che lo divide dalla Macedonia e dalla Tessaglia, e a ovest dal mare Adriatico e dal mare Ionico. La complessità del territorio, poi anche dalla lettura degli innumerevoli dati che sono emersi soprattutto in vari decenni di ricerca sul campo da diverse equip e da diverse università, tra cui anche in primi sulle università di Bologna, la lettura d'insieme a volte è resa più difficile proprio perché oggi invece questa unitarità a volte non si vede proprio, perché il territorio è condiviso da una parte dell'Albania, quindi l'Albania meridionale, e la Grecia settentrionale. Quindi nella mia ricerca di dottorato avevo cercato anche di fare un'analisi d'insieme che mettesse a sistema un po' tutti quanti i dati che sono infiniti, negli ultimi decenni che in Piaveia sono emersi dai numerosi scavi. La complessità poi aumenta quando si tratta del territorio di Piro, poiché fin dall'età arcaica, come è noto, era popolato da numerosi gruppi etnici, i cui maggiori sono Caoni, Molossi e Tesproti, i più noti. La Molossia, ricordiamo, si trova nella zona intorno all'odierno, al lago di Ioannina, dove è la città odierna di Ioannina. La Tesprozia, grossomodo, lungo la costa, nei pressi di Gumenizza, per citare città odierne, e la Caonia invece è una parte nord-occidentale di fronte Corfu. Ma accanto a questi maggiori gruppi etnici, e anche all'interno vi erano numerose altre etne, la cui identificazione e definizione rimane ardua. Sono noti a livello epigrafico, a livello storico, tuttavia è ancora acceso il dibattito circa l'esatta collocazione di alcuni di questi gruppi. In ogni caso, prima di entrare nel vivo dell'argomento, quindi dello sviluppo insediativo, volevo fare una brevissima sintesi, ma estremamente breve, riguardo alle tappe che portarono alla formazione di questo vasto regno, che si può vedere nella carta di destra, come elaborata da Caban. Un territorio quindi andava dallo sconbì il fiume nell'Iria a nord e la Garnania a sud. Le tappe principali, ripeto, è una ricostruzione anche semplicissima, prevede una lettura storica tradizionale, ribadisco che ci sono anche altre interpretazioni e molteplici altre sfumature. Tuttavia, alla presentazione odierna, penso che sia sufficiente elencare quali sono le principalità che hanno portato mano a mano all'Epiro a diventare una forza mediterranea in età ellenistica. La ricostruzione, la lettura quindi tradizionale, vede una progressiva espansione della Bonossia a discapito degli altri etni, che più che parlare però di un'espansione, cioè in termini di conquista, si può parlare di un incremento della propria sfera di influenza. e fino ad arrivare poi grossomodo verso la seconda metà del IV secolo con la nascita della cosiddetta Simmachia o anche nota epigraficamente come i Molossi e i loro alleati, con la formazione quindi, diciamo, l'asceso dal potere prima Alessandro il Molosso, poi con Pirro e suo figlio Alessandro, in cui si ha la maggiore estensione di questo regno e fino alla caduta dei dinastiacidi con l'uccisione dei Tehidemia nel 232 a.C. e successivamente la formazione del così noto, come non degli Epirodi, uno stato di tipo federale. Alla formazione, alla crescita della Molossia, Strabona attribuisce due fattori principali che sono da una parte il controllo di Dodona, il santuario di Dodona, e dall'altra è l'antico lignaggio della dinastia degli Acidi. Per quanto riguarda Dodona, chiaramente sappiamo che inizialmente era sotto il controllo dei Tesproti e successivamente il controllo del santuario garantiva non solo una gestione economica, ma anche permetteva di avere un elemento, diciamo, unificatore che agisse da collante su, come ho detto prima, diversi gruppi etnici affini, ma comunque differenti, e che potesse essere utilizzato, e fu utilizzato quale sede non solo religiosa, ma anche politica, perché ricordiamo, i decreti poi emanati sia dal re sia poi dal koinon erano affissi proprio in questo santuario, quindi a ragione Strabone pone il controllo del santuario di Dodona come elemento tra gli elementi principali. L'altro invece è la dinastia degli Acidi, che rispetto ai Tesproti e ai Caoni sappiamo dalle fonti che i Molossi mantennero una monarchia, di cui parla bene anche Aristotele, come è noto, parlando di un buon governo da parte dei dinasti Molossi. A questi due fattori, secondo me, è opportuno associare anche un altro evento, anche un altro fattore, non indifferente, che è la vicinanza dell'Epiro con la Macedonia, una vicinanza che non è solo geografica, ma è anche politica, e anche e soprattutto delle due dinastie degli Argeti e degli Acidi, soprattutto verso la metà del IV secolo a.C., quando nella politica Epiroda interviene Filippo II, che unì poi le due dinastie fondamentalmente sposando Olimpiade, e prese con sé Alessandro, del futuro Alessandro del Molosso, crescendolo presso la propria corte. Questo fatto, chiaramente, una volta che Alessandro del Molosso compì vent'anni, poi lo mise sul trono della Molossa, concedendogli le città elee che si trovavano sulla costa nella Cassopea. Ma al di là dell'annessione territoriale, sicuramente fu fondamentale per il gione Alessandro la crescita e l'educazione presso la corte macedone, sia in termini di gestione della politica interna, che probabilmente pose le basi di una gestione territoriale che poi sarà attuata attraverso questa forte militarizzazione, soprattutto da Pirro, ma anche di politica estera, come sappiamo, nella sua dispedizione in Italia, dove trovò la morte. L'influenza poi macedone, il rapporto tra la macedone e l'epiro perdurò fino alla fine, fondamentalmente, sia negli anni successivi alla morte di Alessandro del Molosso, che sono un po' più scuri, sia poi con l'ascesa al potere di Pirro, le continue, diciamo, guerra tra i Piro e Macedonia, poi lo stesso Pirro che divenne re di Macedonia per ben due volte, fino, praticamente, al 167, quando i molossi erano alleati dei macedoni contro i romani. Questo è quindi per fare un quadro molto sintetico delle tappe, diciamo, che portarono alla formazione, all'espansione di questo regno e ora lo vediamo, diciamo, dal punto di vista insediativo, cerchiamo di vedere quali sono i modelli o i sistemi insediativi che si evidenziano in questo periodo, che è inquadrabile, quindi, grossomodo, tra il quarto, fondamentalmente tra il quarto e il terzo secolo a.C., tutto il terzo secolo a.C. Allora, partendo sempre dalle fonti più note, si riporta di solito pseudo-oscilace, che riporta un tipo di occupazione territoriale, catacomas, ossia, sparso in villaggi, e di fatti archeologicamente appare abbastanza evidente una dicotomia, una differenza tra la zona costiera in cui vi sono le colonie come per esempio Ambracia o Apollonia che sin dall'età arcaica si sviluppano in impianti, diciamo, urbani, mentre per quanto riguarda l'interno dell'Epiro si conoscono diversi abitati come per esempio Vizza-Zagorio che presentano degli abitati anche con un'articolazione complessa ma che fino a qualche tempo fa erano stati interpretati come villaggi stagionali quindi legati a un'attività economica di tipo transumante e di tipo nomade quindi di conseguenza anche se recentemente questa ipotesi è stata non del tutto accettata quindi si parla di una transumanza più che altro discendente e in maniera simile una differenza è stata ipotizzata anche per il bacino di Ioannina dove le recenti indagini negli ultimi anni hanno portato alla luce un'occupazione fitta che prima non si conosceva e che si colloca a questa occupazione fitta verso la fine del V secolo a.C. che rispecchia quindi sempre la descrizione catacomas quindi per villaggi non fortificati ma si tratta di un'occupazione fitta i villaggi distano anche solo 3 km l'uno dall'altro e la novità diciamo sulla fine del V secolo a.C. riguardo questi insediamenti è che si assiste fondamentalmente a una sorta di litizzazione nel senso che alcuni vanno a occupare insediamenti precedenti di cui però non si hanno molte notizie e l'ipotesi che è stata proposta è che fossero costruiti con materiale reperibile in questa fase successiva invece si sviluppano questa serie di insediamenti tra cui il più importante è il Reiki Platania in cui si può vedere da questa planimetria l'articolazione dell'abitato che continuerà a essere in vita dalla fine del V secolo a.C. con l'apice nella prima metà del IV fino al II secolo a.C. quando fu abbandonato e tale trasformazione verso la fine del V secolo a.C. è stata pure associata all'intervento di Tarips che è il Re cresciuto educato e cresciuto ad Atene che secondo Giustino una volta tornato in Molossi avrebbe riorganizzato lo Stato e avrebbe riformato le istituzioni però tuttavia secondo il nostro percorso sullo sviluppo insediativo a mio avviso un momento cruciale di cambiamento si può cogliere nella seconda metà intorno alla metà del IV secolo a.C. qui ho voluto differenziare due zone una che è il cerchio grande che rappresenta grossomodo la Molossia con gli insedimenti all'interno di Megalocardichi e Castrizza fondamentalmente e dall'altra invece i cerchi singoli che inquadrano diversi centri che a partire diciamo grossomodo dalla metà del IV secolo a.C. si formeranno e soprattutto però nei secoli successivi avranno una conosceranno una strutturazione una pianificazione nei propri impianti che diciamo si possono definire urbani cioè conosceranno uno sviluppo in cui si riconosce in modo chiaro ed evidente lo vedremo una distinzione tra gli spazi pubblici e gli spazi privati oltre che a una monumentalizzazione degli spazi pubblici notevoli cosa che invece per esempio in Molossia si può evidenziare solo nel santuario di Totona quindi io presenterei velocemente le piante di questi parlerei velocemente di questi siti che sono piuttosto ben noti bibliograficamente che però secondo me servono al nostro discorso dove ho riportato ho scelto queste immagini tra l'altro per ricordare il discorso precedente l'influenza della Macedonia di fatti Cassope viene fondata secondo gli scavatori greci verso la prima metà del quarto secolo avanti Cristo ma conosce una sua vera e propria strutturazione dell'impianto verso la fine del secolo e soprattutto tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo interessante però è la la presenza di una tomba dell'eroe fondatore racchiusa entro nelle mura nella parte meridionale della città che è una tomba di tipo macedone e ricordiamo l'intervento di Filippo II nell'area si data intorno al 342 avanti Cristo quindi la presenza di questa tomba è un chiaro riferimento all'influenza della Macedonia che non deve essere da sottovalutare comunque la città di Cassope sorge sul monte Zalongo è racchiusa da un circuito murario possente che racchiude anche le due acropoli sono a est e a ovest e mentre la città vera e propria si sviluppa nella parte centrale pianeggiante della città come si può ben vedere anche nella pianta dunque la caratteristica principale di questi insediamenti sia di Cassope ma vedremo anche di Chitana e Lea o Finichè e Pieticento è anche il luogo strategico sul quale si sviluppano e soprattutto la visibilità eccezionale che hanno sul territorio circostante Cassope qui è evidente nella parte nella figura superiore si vede la visibilità che dalle due acropoli si ha verso nord mentre nella figura in basso è visibile il mare fondamentalmente qua è il punto l'affaccio dall'agorà anche questa è una caratteristica sembra essere una peculiarità di alcune città e pirote in questi impianti agorali che si sviluppano sul ciglio del pendio lo vedremo anche in Billis per esempio e l'agorà si trova in una parte evidenziata in basso quindi proprio sul pendio offrendo un'ottima visibilità su tutta quanta la costa e quindi dunque l'impianto stavo dicendo si sviluppa su queste due plateie principali incrociate da angolo retto da senopoi e di particolare importanza è la plateia centrale che inquadra il lato settentrionale dell'agorà un'agorà monumentalizzata come si può vedere è incorniciata da stoai da est da un edificio identificabile come Bulle Euterion costruito però similmente su un edificio precedente mentre nella figura in alto a sinistra si vede un complesso interpretato come catacogion oppure quindi un alloggio diciamo per personaggi illustri oppure un complesso commerciale diciamo che l'architettura complessa con un cortile centrale e pilastri ottagonali circondati poi da questo cortile da una serie di divani probabilmente anche con un piano superiore e la sua collocazione nei pressi dell'agorà basta a sottolinearne le importanze e la sua monumentalità poi invece nella parte settentrionale sulle pendici meridionali dell'agropoli occidentale si trova il teatro scavato anche in parte restaurato negli ultimi anni che è anche un'altra delle caratteristiche delle città epirote come è noto passando poi all'altra mi sono dimenticato di dire che Cassop come Chitana tutti questi centri che quindi si iniziano a sviluppare più o meno verso la metà del quarto secolo in grosso modo e in realtà poi piano piano nelle fasi successive oltre a conoscere questo sviluppo in senso proprio prettamente urbano diverranno anche una sorta di quelle che vengono definite capitali diciamo del territorio di pertinenza quindi Cassopete Cassopè Ghiitana prima Lea poi Ghiitana dei Tesproti Finichè dei Caoni e così via Bilis dei Bigliones e quindi Ghiitana anche qui lo sviluppo principale a partire dalla seconda metà del quarto ma soprattutto tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo è circondato da un ampio circuito murario anche in questo caso che circonda anche il monte la collina superiore in alto a destra è il Birisella e anche in questo caso c'è una funzione per avere la visibilità sul territorio circostante soprattutto dalla torre che vedete in alto a destra semicircolare e si sviluppa quindi un impianto anche in questo caso ortogonale piuttosto regolare è stata individuata e scavata la cora nella parte sulle pendici meridionali del Birisella e anche questa cora è circondata da stoai e da un complesso a sud identificato probabilmente come luogo commerciale di botteghe mentre l'edificio è stato di difficile interpretazione perché poteva essere interpretato dagli scavatori greci come luogo probabilmente religioso mentre una proposta recente di Elie Rinaldi che probabilmente poteva essere un luogo di riunione politico di grande interesse invece è la parte sud occidentale della città non tanto anzi non solo per il rinvenimento di numerosi sigilli e numerose migliaia di sigilli che riportano il coinon dei desproti ma anche degli epiroti e che quindi è stato permesso di identificare quest'area come archivio pubblico della città ma è interessante soprattutto per la impostazione architettonica delle mura che finiscono con questo corpo aggettante di forma triangolare che ha una funzione chiaramente voglio accedere cioè di difensiva ma aveva chiaramente un impatto altamente scenografico per chi veniva e chi accedeva dalla porta principale che passava proprio in un percorso che prevedeva anche il teatro esterno rispetto alle mura tale monumentalità poi dell'accesso era sottolineata anche dall'utilizzo nella parte inferiore delle mura e purtroppo non ho una foto di ortostati sui quali poi era la cortina in opera poligonale mentre la parte superiore così come a Cassop e ad altri siti dell'epiro era costituita da mattoni in argilla e un altro esempio infine Billis che è simile quindi come dicevo a Cassop per esempio nell'impianto a corale che vedete in basso dove la corale si sviluppa su più terrazze in cui notevole lo sviluppo del teatro e soprattutto in alto a sinistra si può vedere la impostazione anche scenografica di questa corale affacciata sul pendio e che diciamo con una visibilità eccezionale sulla valle del Viosa e per quanto riguarda Finichè io non mi soffermerei visto appunto proprio l'Università Bologna ci scava comunque piuttosto nota e la monumentalità degli spazi la presenza del teatro e della corà sono noti anche qui le recenti indagini proprio dell'Università Bologna hanno consentito in realtà di inquadrare una vera pianificazione in senso urbano verso la fine del terzo secolo e il secondo secolo avanti Cristo tutto questo io mi sembra di ritrovarlo per quanto riguarda la Molossia invece in qualche modo presso almeno una monumentalità e anche una definizione degli spazi pubblici unicamente nel santuario di Dodona santuario di Dodona che in questa pianta planimetria esplicativa si sono ben evidenti le fasi edilizie e a partire dal quarto secolo si registra la realizzazione del muro di Cinta intorno all'acropoli e il Temenos che racchiude principalmente l'area sagra questa questa acropoli che purtroppo oggi è completamente ricoperta dalla vegetazione io ho potuto seguire le mura anche se poi le foto rendono poco quella in basso a sinistra perché una parte della porta è completamente ricoperta dalla vegetazione comunque porta Cinta da due torri e a questa fase probabilmente si deve scrivere anche una prima monumentalizzazione dello spazio sagro principale ma la ricostruzione qui è controversa ciò che invece mi preme sottolineare è che si ha anche una differenziazione ora tra la fine del quarto e soprattutto il corso del terzo tra un'area quindi sagra che è quella a est è un'area invece dove vengono realizzati tutta una serie di edifici ad uso politico pubblico che sono quella occidentale e nel verde quindi nella prima metà del terzo secolo a.C. si assiste alla costruzione del teatro del buleuterium del britaneo almeno in una delle sue fasi e poi in questa pianificazione che prevedeva anche la realizzazione dello stadio che in maniera spettacolare viene realizzato i gradini vengono realizzati sull'analema occidentale del teatro ora osservando quindi questa carellata di immagini possiamo passare scusate avevo messo Anticonea per ultima perché si pone in maniera differente rispetto agli altri centri innanzitutto è successiva la fondazione si pone tra il 297 e il 295 Anticristo e poi mentre gli altri insediamenti erano sorti su precedenti insediamenti attraverso sienicismi insomma in differenti modi ogni sito ha le sue peculiarità Anticonea nasce proprio come fondazione regale ossia è una fondazione di Pirro che diede il nome alla città in onore di sua moglie Anticone in un punto cruciale dell'eviabilità antico sia lungo la valle del Drino tant'è vero che le ricerche condotte dall'università macerata hanno permesso di evidenziare come Anticonea nel terzo secolo avanti Cristo accentrò su di sé il controllo di questa parte di territorio cambiando la gestione della valle del Drino che precedentemente funzionava in modo diverso anche qui comunque abbiamo una monumentalità degli spazi è stata individuata una corale un impianto ortogonale con una doppia fortificazione per quanto riguarda la Molossia invece i siti a nostra disposizione sono sicuramente meno noti quindi questo pone già un limite all'interpretazione dei dati perché gli scavi non sono stati condotti in estensione tuttavia vi sono alcune osservazioni a fare in merito ossia innanzitutto Mergalo Cardichi Castrizzi e Dorron erano tre siti che secondo l'archeologia del novecento principalmente disponendo anche di meno dati si riteneva che fossero frutto diciamo della riforma fossero nate dopo l'intervento di Tarips quindi già nel quinto secolo avanti Cristo in uno sviluppo urbano quindi nel senso evoluzionistico in realtà le recenti ricerche condotte su questi siti hanno permesso di inquadrare innanzitutto la costruzione dei sistemi fortificati agli inizi del terzo secolo avanti Cristo e oltretutto poi andiamo ad analizzare uno per uno forse più semplice Megalogartichi ecco questa è la la pianta della città e come vedete l'estensione è ridotta anche se non è dirimente diciamo l'estensione però se confrontiamo per esempio i siti finora di cui abbiamo parlato si aggirano tra i 30 e i 50 ettari mentre Megalogartichi siamo sui 9 ettari e praticamente anche questo è affine alle altre città di cui abbiamo parlato prima insieme a Castrizza e tutti gli altri siti fortificati che analizzeremo perché è dotato di una visibilità eccellente su tutto il territorio circostante su questa collina che come si può vedere domina tutta quanta le strade fondamentalmente che portano al lago di Ioannina non so se vedete il mouse ma il lago di Ioannina è qua e quindi al di là dell'eccezionale visibilità e dell'apparato difensivo che comunque è dotato di torri e andamenti a cremagliera insomma frutto di tutte le ultime innovazioni in campo della poliorcetica all'interno invece le uniche testimonianze archeologiche che sono state rinvenute sono dei complessi 5 complessi in tutto identificati come abitazioni che presentano stretta analogia o quelli rinvenuti anche come vedremo a Castrizza in cui vi è un corridoio centrale che divide dei vani a sinistra e a destra e questi vani che hanno offerto una cronologia che parte dall'inizio del terzo secolo a.C. fino ad arrivare almeno al secondo quando si attesta anche un'attività produttiva e forse commerciale per esempio in questo ambiente interessante anche il tentativo di regolarizzare l'impianto anche in questi casi in cui è meno mentre negli insiedimenti che abbiamo visto prima vi è un'adozione di un impianto ortogonale qui non si può parlare sempre di un impianto ortogonale ma c'è un tentativo di regolarizzare l'impianto adottando sistemi terrazzati come si può vedere nella casa nella figura in basso però in questo caso come vedremo anche a Castrizza non è stato identificato nessun luogo diciamo con chiare funzioni pubbliche o anche se fosse stato trovato già una visione d'insieme di questa planimetria ci permette di distinguerlo nettamente dagli insediamenti che abbiamo visto prima ma anche nelle diverse fasi cronologiche intendo l'altro è Castrizza che si trova invece a sud del lago di Ioannina come megalogardichi è costituito da un apparato difensivo notevole come potete vedere nella parte meridionale della città che era quella più accessibile rinforzata da una torre di circa 9 metri di lato è visibile nella foto in basso a sinistra e da un torrione triangolare in basso a destra questo è notevole perché sembra rispecchiare perfettamente uno dei suggerimenti di Filone di Bisanzio sui modi di costruire le torri ossia di addossare un torrione triangolare su una precedente torre rettangolare o quadrangolare ed è esattamente quello che ho riscontrato in questa torre di Castrizza e che per me rappresenta l'unico esempio che conosco che rispetta perfettamente ciò che dice Filone di Bisanzio in merito alle torri triangolari e al di là comunque quindi del sistema difensivo anche in questo caso l'eccellente visibilità che si ha su tutto il territorio in alto si vede benissimo il lago di Ioannina anche in questo caso dicevo sono stati individuati una serie di abitati all'interno dove per esempio questo che sto mostrando ora è stato anche interpretato come un probabile luogo pubblico tra virgolette per il ricco apparato musico e le decorazioni architettoniche comunque si può vedere che planimetricamente è simile a quelli precedenti di megalogardichi e a quelli scavati anche un po' più un po' più a est quindi con questo corridoio centrale i vani a sinistra e a destra i muri realizzati anche in questo caso in opera poligonale accurata all'esterno mentre più grezi all'interno ma anche in questo caso al di là della ricca decorazione musiva che è stata rinvenuta in questa abitazione con difficoltà si riconosce un luogo una distinzione o quantomeno tra gli spazi privati e pubblici una dimensione più pienamente urbana che almeno per me si può riconoscere negli altri insediamenti di cui ho parlato prima come ultimo esempio ho riportato Orraon ben più noto e si trova nella parte meridionale ed è circolata anche in questo caso da un circoto murario di cui ho scelto una foto abbastanza suggestiva che permette anche di cogliere quanto perfetta la commissione tra opera muraria e roccia in questo caso è perfetta anche perché il resto delle fortificazioni di Orraon sono in stato di crollo totale mentre nella parte meridionale forse perché non ci arriva nessuno è abbastanza ben conservata l'eccezionale visibilità riscontrabile anche in questo caso Orraon si affaccia quindi verso il golfo di Ambracia nella foto in basso si vede sul fondo c'è il mare fondamentalmente ed è collocata su un importante asseviario che collegava Ambracia a sud e il bacino di Ioann a nord la panoramica che si trova in alto la foto in alto è una panoramica verso nord quindi ad Orraon sono ben note le case conservate in modo eccezionale in gran parte restaurate e sono tre e per quanto riguarda invece la parte pubblica è stato ipotizzato recentemente che un'agora potesse trovarsi nella parte centrale in quest'area libera individuata poi dai due assi principali della città mentre secondo gli scavatori greci l'area pubblica sarebbe da identificare nella parte settentrionale dove si trovano nel numero 5 e numero 4 rispettivamente una cisterra monumentale e un edificio veramente interpretato come luogo di riunioni che si affaccia su quest'area aperta al di là dell'identificazione o meno di spazi pubblici o per luogo e per riunioni che non è questo discorso e a me preme anche in questo caso sottolineare la differenza che qui forse è pure più evidente proprio dell'impianto rispetto agli altri e qui ho messo una una sintesi a questi diciamo che a mio avviso Orraon è assimilabile con la strutturazione proprio dell'impianto a megalogardichi e a castrizza in cui prevale fondamentalmente l'aspetto poi difensivo dell'insediamento e a questi più nodi quindi di megalogardichi e castrizza ricordiamolo fino a un dibattito in corso se siano o meno da identificare rispettivamente con Passaron e con Tecmon così almeno vuole la lettura tradizionale mentre recentemente è stata proposta anche l'identificazione con Passaron che era la capitale dei Molossi presso il castro di Ioannina accanto a questi insediamenti poi in anni recenti sono stati anche associati a questi insediamenti altri Caloglierizza Pagliuri Pagliocripiani e Agiosminas che sicuramente sono insediamenti piuttosto estesi e che purtroppo non sono stati scavati ma secondo me offriranno sicuramente moltissime informazioni e vediamo praticamente che hanno innanzitutto per dimensioni sono simili e in più in base alle ricognizioni che ho effettuato ho potuto constatare anche che si tratta effettivamente il materiale con rinvenuta all'interno è notevole paragonabile a questi due insediamenti principali rispetto ai numerosi altri siti fortificati proprio per la particolarità comunque di questi insediamenti che dico subito ho preferito definirli come insediamenti pseudo urbani poiché non hanno ripeto quelle caratteristiche che portano a definire un insediamento pienamente urbano con una definizione ben esatta tra gli spazi pubblici e gli spazi privati l'identificazione di risparmi dello spazio civico anche e soprattutto il luogo religioso le sedi religiose e anche per esempio non è equiparabile dal punto di vista delle iscrizioni ricordiamo quello che è stato rinvenuto per esempio a Icchitano ma anche la stessa Elea tutto ciò manca in questi siti molossi resta sempre il dubbio che magari proseguendo con gli scavi qualcosa possa venire in luce ma io per ora ho preferito rimanere adottare un termine neutrale che è appunto quello di insediamento fortificato proprio per questo motivo ho scelto di indagare in maniera più approfondita il territorio della molossia perché per cercare di inquadrare questi insediamenti all'interno del contesto cioè se il dato archeologico insediamenti all'interno dei siti non poteva offrirmi molto allora ho cercato di analizzare il sito all'interno del contesto per fare questo quindi come ha detto il professor Levore in solitario sono andato a ricognire gran parte del territorio molosso e questo il fatto di essere in solitario sicuramente ha posto dei limiti considerevoli alla ricerca e limiti che sono anche dovuti alla necessità mi sono concentrato sui siti fortificati non per avere solo questa chiave armeniotica ma perché rappresentano innanzitutto un elemento abbastanza omogeneo dell'architettura e pirote che si riscontra su tutto quanto il territorio e vedremo poi già una parte conclusiva del perché e poi soprattutto e questo forse è il limite è che operando in solitario in queste ricognizioni sicuramente le fortificazioni possono rappresentare il dato archeologico più facile da trovare cioè piuttosto che un insediamento rurale un villaggio o ancora più stevoli dalla vegetazione le fortificazioni forse sono quelle che di solito rimangono sono più facilmente individuabili e non è sempre così insomma in rosso ho segnato i siti fortificati che sono riuscito a individuare e tramite queste ricognizioni ecco questa immagine l'avevo scelta per mostrare un po' il paesaggio che si trova in Molossima in tutto quanto l'epiro caratterizzato da questi siti posti in altura non ripeto non faceva raggiungere in basso a sinistra Callarites per esempio ho impiegato un'ora e mezza a raggiungerla anche con avevo una guida locale che non riusciva nemmeno lui a trovare il sito e tramite diciamo questa ricognizione quindi ho potuto poi operare effettuare una catalogazione di numerosi siti fortificati fermo restando chiaramente come sappiamo che ogni metodo ogni tentativo di classificazione sicuramente è molto rischioso perché rischia di irrigidire la realtà tuttavia è necessario anche per poter dare una linea interpretativa pertanto ho scelto di adottare dei termini il più ampio e il più elastici possibile prendendo spunto dai recenti lavori di FACAR e quindi ho individuato delle voci in sedimenti fortificati fondamentalmente quando è stato possibile o a livello bibliografico oppure proprio con la ricerca sul campo individuare dei dati che mi facessero pensare alla presenza di un abitato all'interno della cinta muraria fortezza acropoli fortificate è quando si tratta invece di fortificazioni che poste solitamente in punti ancora più strategici un apparato difensivo notevole e l'assenza di un abitato all'interno o almeno di tracce di un abitato all'interno anche di ceramica all'interno l'acropoli fortificata l'opposta quando è stato possibile individuare almeno a livello bibliografico la presenza o l'esistenza di un abitato di necropoli nelle vicinanze che quindi possono far pensare che oltre a essere fortezze e con fortezza ne intendo un uso più militare ossia per alloggi di soldati di guarnigioni l'acropoli fortificate potrebbero essere anche luogo di rifugio per la popolazione in caso di pericolo e chiaramente una funzione non esclude l'altra le torri sono di più facile identificazione anche se va specificato che in Molossia almeno per quello che ho potuto castratare si tratta per lo più di torri di avvistamento infine le forti in pietre grezze sono delle fortificazioni con individuato sparse nel territorio che sono di difficile identificazione interpretazione anche soprattutto impossibile cronologia in molti tra l'altro non ho trovato nemmeno un frammento ceramico nulla quindi è chiaro che l'interpretazione è molto incerta però alcuni si trovano in punti strategici secondo nome potevano servire come punti di appoggio o punti di osservazione la ricognizione tra l'altro che cosa ha consentito di individuare una serie di gruppi di fortificazioni in aree circoscritte in tutto ho individuato 16 aree più o meno corrispondenti a valli fluviali pianure o bacini all'interno delle quali c'erano questo gruppo di fortificazioni che sembrava fare un sistema a sé e quindi legati a questi gruppi di fortificazioni sembravano essere legati più che altro a delle aree produttive ma il dato più interessante è che ho sempre riscontrato la presenza di o almeno una fortificazione che fungeva da cerniera tra un'area e l'altra e ora la distinzione di queste 16 aree io l'ho fatta l'ho applicata per semplificare l'analisi per semplificare anche la presentazione dei dati tuttavia non è da escludere che queste possano corrispondere almeno alcune di esse ha antichi distretti perché alcuni sono proprio veramente circoscritti ora forse presentandoli sarà più facile capire cosa voglio dire presento per esempio la valle dell'Uros che è questa segnata il fiume evidenziato in bianco e allora l'Uros che rappresentava anche una direttrice che consentiva di connettere l'area costiera con la zona interna fondamentalmente con Dodona non era una delle vie principali perché sappiamo che le strade per Dodona le strade passavano per Lageronte lungo Lageronte quindi più a est e poi piegando verso Copani e Caloglierizza verso Dodona oppure l'altra strada con l'arteria principale era da Ambracia passava per Orra on Scrivani e quindi solo pendici dell'Oxironi però lungo la pendice e lungo la valle dell'Uros è ben evidente come i siti fortificati si dispongano sulle lungole due lungo la sponda e in questa diciamo distribuzione è stato possibile anche cercare di identificare i siti in base alla loro funzione o natura almeno fare un'ipotesi in particolare per quanto riguarda ecco Caloglierizza si può identificare a mio avviso come il centro un insedimento fortificato innanzitutto ed è il centro di riferimento questo sia per le dimensioni notevoli e maggiori ma sottolino che non è dirimente la dimensione dell'iniziamento del circuito murario tuttavia vi è la presenza anche di un acropoli vi è un abbondante di presenza di ceramica che ho riscontrato all'interno e anche di ceramica fine e la presenza di un impianto termale nella parte orientale che è stato scavato solo in parte ma che è riferibile all'età romana e anche questo ci offre per esempio una cindizia la continuità di frequentazione dell'insediamento in una fase successiva diciamo quella presa in esame e anche l'apparato di difensivo notevole ma soprattutto anche la collocazione strategica poiché si trova Caloghierizza all'ingresso verso il bacino di Ioannina e soprattutto a controllo della strada che conduceva a Dodona si vede infatti in alto a sinistra nella carta la strada principale che dicevo saliva o per la Caronte poi passava per Copani e Caloghierizza e sia quella che risaliva per il Luros comunque nella foto in basso a sinistra si vede chiaramente che dall'acropoli di Caloghierizza la strada per Dodona era pienamente visibile così come era visibile chiaramente la valle dell'Uros e sì mi sono dimenticato di dire che in questi gruppi di fortificazione che qui vediamo nell'alta valle dell'Uros aveva un'intervisibilità eccezionale tra di loro e oltre Caloghierizza poi si Copani subito dopo che ho interpretato come acropoli fortificata per la presenza di un insediamento scavato dagli archeologi greci più a nord nel sito di Ellinica e anche questo probabilmente è una fortezza agropoli fortificata in relazione alla viabilità soprattutto in connessione probabilmente col santuario di Dodona e ho tentato anche diciamo ho fatto delle ricostruzioni come potete vedere del circuito utilizzando i punti GPS in tutti i siti ho cercato di ripercorrere il circuito murario prendendo i punti GPS e poi integrandoli con i dati di Google Earth e da Copani si differenzia invece Miro Daphne e poi Cato Museotizza dove secondo me si tratta principalmente di fortezze per la loro formazione per l'assenza innanzitutto all'interno di strutture interpretabili come abitazioni anche della ceramica per quanto visibile e anche però soprattutto per la collocazione perché Miro Daphne come potete vedere a sinistra è difesa perfettamente da un ripetissimo pendio che dà sulla sulla valle dell'Uro mentre a est è difesa da una cinta muraria andamento a cremagliera che termina nella parte settentrionale con un torrione di circa 9 metri di lato a pianta quadrangolare che si affaccia che controlla visivamente tutta quanta la pianura situata a est che potete vedere nella foto in basso fino ad arrivare a Scrivani che è invece il sito lungo il quale passava l'arteria principale che diceva che da Orraon arrivava a Orraon arrivava a Ioannina e simile quindi in questo controllo della viabilità si pone Cato Mosiotizza che è in basso dove il fiume Luros fa questa ansa a gomito in un terreno totalmente scosceso quindi non adatto sicuramente a un abitato ma probabilmente si tratta in questo caso di un acropoli fortificato poiché anche qui è stata trovata un acropoli un abitato un villaggio poco più a nord che Cato Mosiotizza però come fortezza doveva lavorare sinergicamente con la torre di Caniterovu si trova nella collina sulla collina sulla cima della collina posta di fronte si vede nella foto in basso a sinistra c'è questa collina a forma di cono proprio e sulla cima sono riuscito a trovare le tracce di un muro probabilmente pertinente a una torre oltre sullo sfondo forse nella foto in alto a destra si dovrebbe vedere anche un bunker ho trovato due bunker da questo sito a Caniterovu che probabilmente era una torre di avvistamento c'era una perfetta visibilità sulla valle dell'Uros che si può vedere nella foto in basso a destra e anche in questa carta di visibilità si può vedere nel colore rosso diciamo come Caniterovu non solo avesse controllo su gran parte della valle dell'Uros con i siti precedentemente analizzati ma anche arrivava sulle pendici dell'Oxiro 1 dove passava sempre ripeto la strada che da Orra una risaliva verso Scrivani questa diciamo funzione di cerniera però di alcuni siti l'ho potuta riscontrare anche in altre parti e soprattutto qui è ben evidente siamo nella parte nord-occidentale della Molossia e qui a destra chiaramente è la carta di visibilità e il sito che secondo me fungeva proprio da cerniera e despoticò una fortezza qui in rosso segna la visibilità di despoticò in rosso e si può vedere come questa controllasse o permettesse comunque di vedere sia tutti quanti i siti che controllavano la strada che lungo lo Smolizza conducevano al santuario di Dodona sia quelli che erano lungo la valle del Calamas quindi verso la Desprozia sia verso sud-est verso Megalogardichi e il bacino di Ioannina ma soprattutto Despoticò era anche in connessione con la valle del Giftopotamos e arrivando quindi a vedere sia i siti di Lavdani e soprattutto Ctismata Ctismata che è l'ultimo insediamento prima della valle del Drino solo qua Ctismata aveva una visibilità perfetta su tutti quanti i siti fortificati posti nella parte occidentale nella foto in basso a sinistra si può vedere chiaramente la visibilità che Ctismata aveva sulla valle del Drino sull'accesso almeno alla valle del Drino quindi quello che ho potuto constatare è che queste fortificazioni operasse in realtà sinergicamente in questa fase che si può collocare nel corso del terzo secolo avanti Cristo e piuttosto che in questi casi definire dei confini mi sembravo proprio che seguissero le vie di penetrazione i corridoi di penetrazione che portavano dall'esterno all'interno del territorio molosso e viceversa in questo caso mi pare più che evidente un simile discorso vale anche per la parte sud orientale della diciamo della molossia in un punto in cui solitamente viene posto il confine tra la Atamania e la molossia e anche qui ho potuto riscontrare in tutti questi siti le foto che vedete a sinistra sono state effettuate dai rispettivi siti e la carta di visibilità a destra consentono di vedere come in realtà sembrava proprio che questi siti lavorassero sinergicamente ripeto non in opposizione gli uni degli altri ma proprio costituissero una rete che seguiva proprio in modo che esesse la viabilità antica e un discorso leggermente diverso si pone invece per il bacino di Ioannina dove praticamente abbiamo visto che ci sono i siti di castrizza e di megalocardichi che costiscono gli insediamenti maggiori e al centro però c'è il castro di Ioannina questo destra di alcune perplessità alcuni dubbi soprattutto negli ultimi decenni sia dal punto di vista degli ultimi rinvenimenti che si riguardano parte del circuito murario che è stato ritrovato il circuito murario riferibile per lo meno all'età quantomeno ellenistica se non poco prima e poiché al di sotto del muro di cinta del castro di età ottomana è stato trovato quello di età bizantina e sotto ancora quello di età ellenistica che grosso modo sembra coincidere quindi con la fortificazione di ottomana che cinge un'area di circa 30 ettari quindi abbastanza estesa ma non solo queste le mura anche diversi rinvenimenti sporatici grazie agli scavi di emergenza hanno messo in luce edifici di grandi dimensioni riferibili con una cronologia che va in grosso modo tra il quinto e il quarto secolo avanti cristo ma si registra una continuità di vita che va dalla protostorica a oggi e in più se andiamo a vedere l'analisi diciamo della tecnica muraria anche se non è può essere utilizzata come criterio utile alla cronologia però si può vedere un'analogia tra il muro rinvenuto a Ioannina e quello dell'acropoli di Dodona che differiscono comunque rispetto alle fortificazioni di Megalogardichi e Castrizza dove si può vedere una serrata opera poligonale ben differente e dal punto di vista però topografia del contesto il castro di Ioannina si differenzia dagli altri siti anche per un altro motivo ossia che mentre i Megalogardichi e i Castrizza hanno un'ampia visibilità come abbiamo visto tutto intorno su tutte le direzioni il castro di Ioannina è visibile è intervisibile con questi due anche con la torre di Pedini però in realtà non è collocato in un punto strategico come tutti i siti finora analizzati ma si trova appunto nella penisola che dà sul lago quindi con scarsa visibilità questa collocazione questa sua centralità l'essere difesa da tutto questo sistema di siti fortificati più o meno estesi e anche le poche ma significative testimonianze archeologiche che sono emerse al suo interno fanno porre la domanda se non si tratti poi qui di uno degli insedimenti principali molossi ancora da identificare da individuare da scavare che magari paragonabile con quelli presentati all'inizio della relazione e il discorso comunque diciamo con questa lunga disamina mi sono interrogato quindi sulla funzione che questi insediamenti e siti fortificati molossi potessero avere in questa fase diciamo che opponiamo quindi nel corso del grosso modo del terzo secolo a.C. è chiaro se non l'ho detto all'inizio la cronologia è una cronologia certo che può sembrare debole in quanto non sono stati eseguiti degli scavi sui singoli siti fortificati presi in esame tuttavia da una parte diciamo vi è una sorta di alcune tecniche edilizie che sono note a chi conosce l'epiro ma comunque che corrispondono a una tecnica edilizia epirota tipica che si ritrova e si riscontra su tutto quante le fortificazioni prese in esame in più ciò che si vuole sottolineare è che sicuramente in una fase diciamo che si colloca negli anni di Pirro quindi centrale tra il terzo secolo anche con Alessandro ma anche con il conegno degli epiroti queste fortificazioni sia quelle costruite diciamo per volontà locale sia quelle costruite per diciamo direttamente dallo Stato quindi dall'entità statale se parliamo del regno e comunque diciamo in un certo periodo che collochiamo al terzo secolo avanti Cristo verosimilmente operavano in modo sinergicamente e questo mi sembra di averlo messo bene in luce tramite questo sistema di rete capillare che funzionava su tutto il territorio molosso e secondo me anche superando i confini infrarregionali e d'altronde mi sono interrogato sulla funzione appunto di questi siti fortificati e anche soprattutto gli insediamenti e andando a leggere semplicemente appunto Plutarco o anche le altre fonti ci si rende conto che innanzitutto Pirro nei suoi anni pote gestire un esercito numeroso che comprendeva tra i 15 e i 25 mila soldati circa e quindi di conseguenza questo numeroso esercito aveva bisogno sicuramente di alloggi di luoghi dove sostare nei momenti di pausa tra una guerra e l'altra e sappiamo poi le numerose battaglie alle quali partecipò Pirro re combattente per eccellenza soprattutto poi con Demetrio con Antico chiaramente richiedevano sia un controllo capillare del proprio territorio e sappiamo delle numerose incursioni anche dei Macedoni nel territorio e Pirota e sia anche quello di non dover smobilitare l'esercito che anche questo la smobilitazione di un esercito sappiamo che comportava un costo a volte anche più eccessivo e soprattutto poteva comportare l'insoddisfazione dei soldati quindi la presenza di questi insediamenti fortificati soprattutto in Molossia come per esempio Megalo Cardichi e Castrizza mi ha fatto porre la domanda se in realtà non si tratti di alcuni insediamenti e se la cronologia appunto si conferma soprattutto per questi all'inizio del terzo secolo se non possa trattarsi di insediamenti militari nati appositamente inizialmente per offrire alloggio ai soldati e alle loro famiglie e che poi magari in una fase successiva dopo anche la caduta diciamo della dinastia e acide si fossero sviluppati in maniera diversa dunque io credo credo che ho parlato a lungo e credo che possiamo procedere con la discussione nel senso non ho fatto forse una conclusione vera e propria però ho cercato di essere più breve in modo da lasciare spazio anche alla discussione sì no benissimo devo dire che intanto ti ringrazio molto per questa tua sintesi la conclusione è una conclusione storica che a me piace molto nel senso che alla fine di tutto noi se non tiriamo fuori delle considerazioni di carattere storico andiamo meno alla nostra funzione giochiamo con la terra andiamo in giro per i siti straordinariamente devo dire belli che ci hai presentato però le conclusioni devono essere storiche quindi insomma questa tua politica con pirro è un'interpretazione che va seguita allora sentite io mi sono segnato molte domande però intanto io ti ringrazio e io cederei la parola allora vediamo chi vuole partecipare facciamo una cosa ordinata chi vuole intervenire è pregato di alzare la manina visto che il sistema ce lo permette oppure aprite il microfono e procediamo vedo che ci sono anche diversi membri della missione a Punica e a Butrinto quindi insomma direi che i temi che ci hai presentato sono del massimo interesse e molte cose non le avevo prima di questa tua presentazione non le avevo capite bene sinceramente aggiungo solo mentre aspettiamo le manine alzate in effetti le ricognizioni solitarie sono anche un po' pericolose se posso dire la mia al di là del pericolo il grosso limite è che non consentono di coprire il territorio in maniera diciamo totale nel senso che alla fine chiaramente era a me diciamo l'obiettivo mio era poi intanto individuare dove erano effettivamente collocati cioè prendere anche un semplice punto GPS e capire dove è il sito già era fondamentale perché se uno legge in bibliografia si dice la collina est del paese ma la collina est del paese vuol dire tutto e niente così come le formazioni degli abitanti del luogo che sì comunque sono state fondamentali a volte erano lì dietro ma lì dietro per esempio ma senti allora ci dai un numero complessivo cioè alla fine tu quanti siti in totale hai mappato tanto per i tuoi numeri io sì chiedo scusa ma perché sintetizzare tutto quanto non è stata un'operazione semplice alcune cose sicuramente le ho tralasciate o le ho dimenticate guarda te le chiediamo noi quindi in tutto tu hai mappato quanti siti quindi 60 siti che ho diciamo potuto vedere io poi altri purtroppo era sì 60 in grosso modo 60 siti in bibliografia perché tu hai ricontrollato anche siti che non so magari erano già nelle fonti Dakari si li aveva visti insomma io sono partito chiaramente da Hammond e da Dakaris che hanno avuto la fortuna di vedere un mondo che a noi non è più possibile e altri poi mancavano ho integrato alcune elenchi che sono stati fatti poi più recentemente anche dalla DOS o da Pliaco o qualcosa ho integrato i vari lavori e soprattutto però ripeto mentre ho constatato che di solito senza scredire nessuno perché voglio dire non è che tutti uno deve andare a visitare i posti però solitamente viene riportato semplicemente lì c'è un sito e finiva lì ho cercato di andare a vedere dove era questa cosa fondamentale e poi solo tutto che cosa c'era il lavoro tuo è straordinariamente utile e interessante e senti ci sono dei siti nuovi rispetto totalmente nuovi rispetto alla bibliografia oppure hai individuato dei siti totalmente inediti oppure allora alcuni siti inediti no sì alcuni ci sono alcuni sono riportati solo che c'è un nome ma in realtà poi c'è parecchia roba nel senso c'è solo un nome una citazione e poi nient'altro alcuni sì e e soprattutto però ci sono alcuni siti che io dove vorrei tornare perché secondo me sono dove sicuramente secondo me c'è qualcosa con noi talmente cioè ci sono dei punti che inquidati non tornano almeno secondo la mia ricostruzione quindi piacerebbe tornare per esempio nella zona lì della Sumerca e non so se riprendere la la presentazione comunque ci sono riprendo un attimo sì sì così vediamo bene allora non mi ricordo se l'ho messo si vede stiamo vedendo no non è questa ecco qui per esempio a me manca cioè proprio un sito che io ho ipotizzato essere cioè per esempio Ampelocori questo qui che non ho trattato adesso in questa presentazione che sembra essere non dico isolato ma ha una visibilità sicuramente con Pramanda che si trova invece di qui però in realtà io mi immagino ma sono quasi sicuro qui c'è una chiesetta esattamente dove è il mouse una chiesetta ai profitti Silias dove io non ho avuto modo di andare e dove però secondo me con buone probabilità ci potrebbe essere una torre o qualche cosa che permetteva di collegare visivamente quantomeno questi siti fortificati di Cugliarades che invece non è visibile da Ampelocori e anche Gozuka che è la torre invece che si trova dall'altra parte cioè quindi ho fatto delle ipotesi su alcuni siti secondo me cruciali da indagare un altro per esempio che è proprio Plaka questo qui è riportato c'è una nota in cui dice Plaka come sito fortificato è proprio insomma abbastanza interessante il sito ho trovato una torre ben conservata già il toponimo è parlante no? no no infatti e poi posta in un punto cruciale anche quella ma sì la cosa incredibile è che la maggior parte di questi siti poi sono magari lo sanno pure ma non hanno scritto non si è scritto nulla cioè poi a livello di concreto cioè nemmeno la planimetria per quello io ho fatto queste ricostruzioni schematiche del circuito murario e per quello dico che per quello dico che chiaramente un'equipe che lavora agevola il lavoro perché chiaramente se uno si può anche utilizzare nuove strumentazioni e via dicendo la documentazione è più veloce e più affidabile certo però direi che tu hai fatto un lavoro eccezionale come dire come come base per le future ricerche insomma quindi il problema principale rimane sempre la cronologia perché purtroppo noi abbiamo pochissimi dati sicuri su cui ancorare la cronologia però io ritengo anche che a un certo punto anche l'assenza di materiali dobbiamo considerare un dato perché anche questa cosa qui perché se c'è come dire sono siti che poi non vengono più preoccupati non c'è una fase ottomana medievale ottomana è questo che ho voluto sottolineare cioè questa assenza l'ho voluto sottolineare per quello ho fatto vedere prima le note città chiamiamole città appunto di Cazzope Chitana Finichelle planimetrie che solo comparando semplicemente le planimetrie mi sembra già abbastanza evidente la differenza che vi è tra i diversi insediamenti non tutti vengono poi occupati non tutti conoscono una frequentazione di vita un esempio è il caso di Ioannina appunto è l'unico secondo me che offre questa continuità di vita fino ad oggi per quello che rimane il dubbio che magari è proprio uno dei centri diciamo principali mentre gli altri è vero che rimane la cronologia però per alcuni casi per esempio per Castrizza o Megalogardichis la tecnica muraria non può essere utilizzata come criterio utile alla cronologia però l'analisi di alcune tecniche della poliorcetica sì già quelli psicologo con una cronologia che sicuramente rispondono a delle esigenze di un modo di condurre la guerra che è diverso alle fasi precedenti e questo per me è importante sottolinearlo oltre anche ad altre caratteristiche che ho riscontrato su anche voi credo se ne abbiamo parlato pure in passato per esempio quei solchi verticali e quelli rappresentano anche quelli una peculiarità proprio del modo di costruire degli epiroti e quindi secondo me corrispondono anche a delle maestranze che lavorano in un determinato periodo cronologico ma per rimanere su questi solchi visto che vedo che ci sono anche dei colleghi che si sono occupati di butrinto oltre che Michael ben fatti quali sono le ipotesi insomma perché sapevo che non so se tu sei d'accordo con Luigi Calio che ipotizzavano la presenza anche di bandiero di segnali però mi sembra un po' strano tu cosa ne pensi? No io recentemente ora dovrebbe uscire un articolo su crona che a breve dovrebbe uscire in cui ho ripreso leggendo il lavoro che ha fatto Elena Santagati su Filone e quindi rivedendo un attimino Filone abbiamo ipotizzato che magari questi è chiaro che rimane un'ipotesi però allora voglio parlare di questi solchi un attimo riprendo un attimo la pianta per chi non ce li ha chiari questo è un tema su cui noi stiamo discutendo da diciamo da quando siamo arrivati a Butrinto ecco perché infatti ora io vi pongo la mia ipotesi perché vediamo poi quello che avete visto voi e che conoscete voi se potrebbe funzionare allora cassope allora la sequenza che ho riscontrato io per tutti quanti i siti cioè proprio tutti e sono tanti dove l'ho trovato questi solchi si vede abbastanza cassope sì ok allora innanzitutto una collocazione dove sono questi solchi cioè dove sono dove trovarli perché io ormai se individuo una fortificazione e pirota generalmente posso dire dove poter andare a trovare questi solchi io l'ho trovati di solito vediamo questo andamento a cremagliera e sono chi l'ho sempre trovati uno a metà altezza e uno a ridosso o uno a coppia a ridosso dell'angolo poi di nuovo uno a metà altezza e uno o due a ridosso dell'angolo cioè questa sequenza fissa questo l'ho trovato a cassope in questo punto qui mi sono fatto tutto questo pezzo l'ho trovato a Miro Daphne per esempio su tutta quanta l'andamento a cremagliera a Megalogardichi a Castrizza a Covani vabbè su tanti siti ora non nemmeno ricordo diciamo una cosa che torna e quindi come l'interprete poi un'altra constatazione è che sicuramente non erano pali affisti a terra perché almeno in molti casi che ho visto io per esempio anche a Crisorrai lì su una torre semicircolare prendendo questi pali non partono i solchi non a terra ma partono dalla seconda assisa fondamentalmente quindi vuol dire che non potono essere affisti a terra perché inizialmente ora ho bodizzato leggendo un articolo di Mastrantonis che corrispondessero anche lì a un punto di filone in cui diceva di piantare dei pali per velocizzare la costruzione delle torri circolari si utilizzavano dei pali piantati in circolo a terra e poi si facevano questi solchi per velocizzare la costruzione della fila a piombo però mi sembra strano nel senso che tu puoi usare il fila a piombo anche perché questi solchi sono esattamente che poi Lorenz infatti dice che si parla di fila a piombo ora in realtà poi parlando pure con Luigi Caliò siamo venuti diciamo leggendo soprattutto filone abbiamo visto che ci sono alcune parti in cui filone suggerisce di rinforzare le fortificazioni soprattutto nei punti più esposti all'artiglieria nemica di rinforzarli con dei rivestimenti linei ora fanno anche una differenza del tipo di legname da utilizzare mi sembra che Vitruvio poi riprenda il discorso e dice di utilizzare l'ulivo e questo rivestimento ligno aiuterebbe quindi in caso dei colpi dell'artiglieria a rinforzare le murature a me è venuto poi un'altra ipotesi in mente ossia sì magari sono collocati nei punti a cremaliera la cremaliera quindi chiaramente il punto anche per esempio qui a Cassope questo punto è uno dei più accessibili infatti è protetto sia dal protechismo sia da quest'altro in modo da rafforzare ma se il nemico entrava chiaramente qui il punto è abbastanza pianeggiante quindi ho pensato il punto è più esposto quindi probabilmente questo rivestimento ligno ma soprattutto io ho pensato che potessero essere dei sistemi anche per agevolare la costruzione o ricostruzione cioè se noi vediamo come lavorano i muratori usando i palanchi come si chiamano questi attorno alle murature per velocizzare se io devo costruire un muro per esempio in mattoni si mette un'asta a destra non alza a sinistra e si velocizza in questo modo la costruzione invece di utilizzare il filo a piombo se noi immaginiamo che molte delle fortificazioni pirote sono realizzate in mattoni di argilla io ho pensato la parte superiore dico ho pensato che magari questi pali venivano realizzati e per appoggiarli a una superficie come quella in opera policonale non consente una lavorazione a piombo mentre la risciatura la creazione di questo intaglio poteva consentire di alloggiare la parola linea e questa qui in altezza consentì a voi eventualmente di costruire in velocità la struttura superiore se noi la immaginiamo sempre in mattoni di argilla io adesso vedo presente buttrinto e che mi sfugge il fatto che se come dici tu dovresti trovarla come dire con una regolarità nel senso con una maggiore regolarità probabilmente vabbè tu hai detto che l'hai trovata però adesso non so se è buttrinto non lo so ma è un tema secondo me comunque molto interessante io non devo dire che non ho trovato finora adesso leggeremo quello che che tu proponi bene ma non ho trovato spiegazioni del tutto convincenti certo certo io per ora questo ho ipotizzato perché ripeto è veramente una costante anche a castrizza si trova nell'angolo tra le torri è proprio una costante per esempio a castrizza anche lì è nel punto più esposto lì dove ho fatto vedere l'immagine ecco questa la posso far vedere di nuovo anche se forse è più famosa forse mi sono perso no dove sta ecco 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 io qua a castrizza si in corrispondenza del proprio del allora questa è una torre e questa è l'altra torre qua nell'angolo forse si vede pure si intravede cioè un solco qui e un solco sulla parete di destra poi l'ho trovato un altro solco qui anzi e poi altri due nell'angolo tra la cortina e la torre è idem speculare dall'altra parte questa è cioè questa è la costante l'ho trovato in prossimità degli angoli lungo la cortina che è vicina all'angolo una distanza di circa 10 metri ma veramente c'è una costante e anche a Chitana l'ho trovato allo stesso modo non ho potuto fotografarla però anche lì l'ho riscontrato e l'ho riscontrato nei punti in cui si raggiungeva un elevato notevole cioè quando un'altezza non so superava i 4-5 metri allora ho trovato questo tipo di però è abbastanza strano che non arrivi a toccare a terra perché adesso mi sembra che anche Budorinton non arrivi a toccare insomma le ultime le prime due dal basso le prime due assise dal basso mi sembra che non ci sia questo solco però devo dire che non mi ricordo bene quindi penso di no io mi ricordo che Budorinton le foto che avevo visto non partivano dal basso da quello che ho visto in foto sicuramente si ricordano meglio di me adesso vedo che c'è Veronica Veronica Castagnani forse loro si ricordano meglio di me salve sì salve buonasera eh ti ricordi sì a Budorinton in realtà adesso effettivamente non mi sembra che le ritroviamo con una certa ricorrenza però quello che a me lascia perplesso è che a Budorinton in realtà noi le vediamo che toccano terra nel senso ovviamente il piano di calpestiglio che noi ora frequentiamo però non non si conservano per tutta l'estensione del muro cioè si interrompono a un certo punto per questo era anche strana la ricostruzione del filo a piombo e anche la la tua teoria ecco di queste aste che potrebbe funzionare però nel caso di Budrinto ecco non vediamo questa scanalatura che procede per tutta l'altezza del muro ma si interrompe a un certo punto e è strano ma si interrompe a un certo punto e poi c'è una cesura oppure l'opera è continua no allora l'opera adesso non so se hai presente il tratto di mura ellenistiche tra Porta Cè e Porta del Leone ok noi vediamo dei tratti delle mura ellenistiche conservate poi sono scavalcate dalle mure medievali ma nei tratti in cui noi vediamo bene il paramento ellenistico il paramento prosegue in altezza aperto a metri ma la scanalatura si interrompe prima non segue tutta l'altezza non so se mai capito si si ho capito ho capito andrebbe non lo so andrebbe visto perché io infatti per esempio nei casi che ho constatato in Molossia cioè in questi siti della Molossia sono tutti quanti arrivano fino a dove si conserva il muro per quello in realtà è simile ai casi che hai presentato tu e anche a Pirgos Raghu non so se l'hai visitato perché anche lì l'abbiamo trovato abbiamo trovato queste scanalature in corrispondenza dell'angolo quindi in quel caso rientra diciamo nella tua cassistica perché stava in corrispondenza di un angolo e si conservava per tutta l'altezza del muro a quel punto i casi di Butrinto per adesso sono un po' ma in realtà mi ricordavo infatti in una fotografia questo casanomalo di Butrinto che era di una metà altezza questo sulco che poi non andava non lo so poi in realtà a Butrinto l'abbiamo trovata anche in corrispondenza del muro alto vicino Porta Nord vicino a degli incavi non passanti e alla base di questi incavi partiva questa scanalatura c'è un caso o forse due quindi non c'è proprio una è difficile riuscire a fare a individuare una specifica tipologia per questo tipo di dettaglio architettonico a Butrinto effettivamente ok non saprei quindi questo è un tema su cui dovremmo ragionare ancora e raccogliere più documentazione poi ecco vedo che Vittorio vuole fare una domanda Vittorio Mirto a te la parola Vittorio Buonasera a tutti grazie Gianmicola per la presentazione è sempre interessante anche se conosco l'argomento però è sempre interessante tornarci e volevo volevo chiederti tra i siti appunto che hai ricognito quindi quelli che hai studiato ci sono degli esempi in cui materialmente si verifica una rioccupazione del sito e magari la fortificazione risale a insomma epoche più antiche mi riferisco in particolare all'età del ferro perché è una cosa che noi stiamo trovando ne abbiamo parlato nel distretto di Corcia nell'altopiano di Colonia quindi delle fortezze dell'età del ferro però abbiamo il problema che non riusciamo a trovare delle fasi diciamo più tardi quindi elenistiche quindi manca sostanzialmente il cosiddetto aggiornamento alle tecniche poliorcetiche più tardi quindi è come se la ceramica c'è quindi vengono rioccupati i siti delle fortezze dell'età del ferro ma di fatto non ci sono degli aggiornamenti dal punto di vista dell'architettura militare quindi se hai trovato dei siti dove materialmente c'è continuità o comunque c'è una fase più antica visibile o segnata in bibliografia guarda allora per quanto riguarda le fortificazioni no cioè né a livello bibliografico né da quello che ho potuto vedere io per quanto sempre diciamo per quello che è visibile non ho potuto constatare una continuità nell'uso delle fortificazioni quindi dall'età del ferro all'età ellenistica in bibliografia sicuramente ci sono numerose attestazioni della frequentazione anche in età protostorica nelle zone adiacenti cioè limitrofe ai siti fortificati andrebbe analizzata sicuramente meglio la questione ma dati così sicuri non li ho trovati non li ho trovati ok perché diciamo tu parli spesso di anche di insomma di muratura in pietra greggia eh muratura in pietra greggia in realtà io scusa ho finito muratura in pietra greggia l'ho inserita perché spesso si ritrova anche a livello bibliografico però in realtà sono molto cauto nell'attribuzione all'epoca antica cioè perché ho ipotizzato anche potessero essere riferibili alla seconda guerra mondiale perché un altro infatti la cosa funziona al contrario se la domanda la facevi al contrario ti rispondevo sì nel senso quasi tutti i siti fortificati che ho presentato la cosa straordinaria interessante è che vengono rioccupati invece nella seconda guerra mondiale cioè quindi installazioni mitraglietrici bunker al contrario funziona e quindi io pensavo che anche alcune di questi di queste fortificazioni diciamo in pietre grezze magari potessero essere in realtà opera opera sì però evidentemente rimane un po' la livello il luogo rimane come marker territoriale cioè come a livello di strategicità della posizione quindi magari viene rioccupata evidentemente magari in epoche precedenti il sistema era diverso comunque il territorio probabilmente era diviso sfruttato in maniera diversa però quello che si configura da quello che state dicendo è molto interessante cioè le ricognizioni che Vittorio ha fatto nel nord dell'Albania presentano dunque solo una fase dell'età del ferro diciamo bronzo o ferro dimmi se sbaglio a livello bibliografico sì poi in realtà ci sono delle preoccupazioni anche tardoantiche altomedievali però manca diciamo la passe esatto mentre nel sud diciamo tra Tesprozia Caoni Molossia abbiamo il contrario abbiamo una situazione in cui se ha ragione nell'interpretazione come dire di una comparsa mi sembra piuttosto improvvisa perché l'impressione che io ho sempre avuto in questi casi di una comparsa che sia il fenomeno urbano o che sia la fortificazione sembra che questo territorio siamo di fronte a un'esplosione abbastanza improvvisa però magari un'impressione sbagliata o di città o di fortificazione in cui però non c'è corrispondenza con l'età del ferro insomma sono due situazioni che mi sembrano molto diverse o no o non ho capito bene a me sembra di sì perché sono d'accordo con lei con questa tra virgolette comparsa repentina pur ammettendo diciamo parliamo di Pirro Alessandro Molosso sicuramente loro ereditano uno Stato che già ha delle basi solite nelle fasi precedenti però se parliamo di questo sviluppo o più che altro comparsa se non vogliamo dare un giudizio qualitativo diciamo questo sviluppo urbano di alcuni centri la comparsa di tutte queste fortificazioni a mio avviso nella lettura almeno che ho dato nella gestione territoriale si può rifare solo a un potere centrale che è in grado anche di investire economicamente sul territorio cioè sicuramente non ha nulla questo non vuol dire che annienta le realtà locali che continuano a coesistere a convivere probabilmente insomma qualche fortificazione si deve rifare anche alla gestione locale però sì io sono d'accordo con questo discorso mentre per quanto riguarda le fasi precedenti andrebbero sicuramente lette ma quello che io ho letto in bibliografia è più che altro rinvenimenti sono si tratta di rinvenimenti non mi sono interrotto perché un'area Vittorio ecco scusate ripensandoci un'area che presenta una simile continuità che però purtroppo è una di quelle che non sono riuscito a indagare è Poconi che si trova verso la valle del Drino nella parte nord occidentale della Molossia a Poconi lì Andreu Ilia non mi ricordo comunque hanno scavato 40 anni lì e hanno trovato tutti questi siti riferibili all'età protostorica che presentano questi ampi circuiti murali che sono notevoli e purtroppo io non sono riuscito a visitare questi due luoghi però parlano anche di un sito invece fortificato di età ellenistica che sembra essere differente che si trova sì l'area di Poconi Vittorio quindi secondo me è quella però non mi sembra che abbiano continuità capito come dici tu Catomeropi erano le località Paleocastro ora non riesco a trovare una pianta con questi siti che c'è non l'ho riportati però mi ricordo che a Catomeropi c'erano questi siti fortificati in altura su alture che però non hanno almeno io sono andato a leggere appositamente per capire se c'era stata o meno una continuità altrimenti le avrei inseriti anche nel mio catalogo ma in realtà mi sembra che le fortificazioni non continuino ad essere utilizzate nella fase da me trattata quindi torna a esserci questa differenza non lo so cioè bisognerebbe capire cosa vuol dire a livello di dinamica insediativa questo tipo di organizzazione o comunque di queste cesure però è molto interessante anche questa differenza in realtà professore il distretto che abbiamo visitato non è quello di Corcia di Colonia quindi a confine adesso la Grecia prima con la Macedonia sì come dire il dato per quanto io poi non sono un esperto non sono un topografo però il dato che io vedo secondo me il dato più interessante è quello da cui sei partito uno dei più interessanti cioè il tema anche della monumentalità perché questo mi sembra indiscutibile no siamo partiti dicendo che comunque ripeto se ho capito bene la Tesprozia e la Caonia sembrano fare una storia leggermente diversa rispetto alla Molossia che però dal punto di vista della monumentalità in cui sembra da quello che chiaramente vediamo adesso finora che la monumentalità Molossa si concentra soprattutto nel santuario federale diciamo mentre Caonia e Tesprozia presentano città aggiornate alle più moderne tecniche insomma diciamo non tecniche alle più moderne concezioni della polis contemporanea quindi questo lo possiamo dire mi sembra ad oggi a me sembra evidente questa cosa perché anche anche Orra perché quello che non ho voluto dire che non esistono luoghi adibiti alle attività politiche pubbliche perché non ho voluto dire questo perché ci sono delle strutture a pianta rettangolare su tutti questi siti che probabilmente potevano ospitare questo ma a livello di organizzazione degli spazi di monumentalità sicuramente quelli della Molossia al di là di Dodona non sono equiparabili alle città perché io definirei proprio città o quantomeno no città agli impianti che raggiungono una dimensione urbana della della Desprozze della Caonia questo è il mi faccio io alla fine questa perché tu proponi una interessantissima chiave di lettura militare cioè queste sono strutture che in qualche modo rispondono all'esigenza di militarizzare un territorio molto interessante anche l'idea del mantenimento dell'esercito secondo me bisognerebbe ragionare ancora di più su questo tema però ti chiedo questo cioè io adesso non voglio monopolizzare però vedo che non ci sono altre mani alzate questo volevo chiedere ma la questione economica cioè l'economia del territorio cioè tu la vedi come dire a integrare il tema della militarizzazione come si integra con il tema dell'economia pastorale insomma questa pastorizia e l'allevamento sono temi integrati cioè perché alla fine perché io militarizzo oppure ti rigiro la domanda perché devo militarizzare il territorio solo per farci passare per eserciti no sicuramente allora lo spunto a me era nato osservando ciò che era ciò che è noto ma questa è una suggestione lo sottolineo era diciamo vedendo ciò che è noto per l'Egitto con le cloruchie o se uno guarda le catechie o uno guarda queste colonie quindi militari in cui ci sono proprio questi diciamo una sorta di colonie militari che hanno un alloggio con le loro famiglie e che gestiscono anche l'economia del territorio anche se forse più se si parla di agricoltura e per suggestione ripeto avevo visto la Molossia come un possibile una possibile attuazione simile ricordando anche sottolineando che Pirro ebbe modo di formarsi cioè di passare comunque due anni importanti presso la corte di Ptolemeo riguardiamo poi tutto il rapporto stretto molto vicino tra l'Epiro e l'Egitto che segnò tutto quanto il suo regno e non solo nell'ottima anche di una politica mediterranea comune e quindi diciamo questa impostazione io l'ho immaginata sempre per suggestione in assenza di dati sicuri anche per per la Molossia in questa impostazione quindi se uno immagina la strutturazione di questi e fondazione di questi insediamenti con scopi sì prettamente militari ma anche allo stesso tempo di creare degli alloggi per per i soldati io sinceramente in questo caso per esempio se immagino Castrizza e Megalogardichi li vedo più legati a un mondo agricolo sinceramente perché sono anche in zone più pianeggiante cioè vicine alle pianure se invece poniamo fortificazioni su alture difficilmente raggiungibili eccetera in quel caso allora forse li vedrei più legati a un fenomeno di transumanza ma soprattutto se e forse ciò è sbagliato se mi faccio condizionare anche da dalla pastorizia odierna cioè nei luoghi della Sumerca Calarites per esempio ancora si pratica la transumanza ancora si passa la Sumerca e si vende e salga durante l'inverno immaginando quei luoghi e quei siti fortificati allora immagino un tipo di vita un tipo di economia legato principalmente alla pastorizia mentre per gli impianti diciamo gli insediamenti questi pseudorbani che ho definito essendo questi vicino proprio a delle valli a dei bacini come può essere il bacino di Ioannino la pianura di Calpaghi verso la valle della O quelli li vedo più legati sinceramente a uno sfruttamento agricolo della regione sì ma infatti mentre parlavi devo dire la domanda che mi ponevo è sì ma perché nel senso dell'economia che questi militari devono difendere no? ci sarà allora pensavo nella valle dell'Uros in particolare che è chiarissimo questo esempio mi è piaciuto veramente molto perché lo posso capire anch'io che non sono un topografo allora mi chiedevo quel percorso lì che congiunge in qualche modo a Norda e Dodone a Sud e Ambracia no? quel percorso lì è un percorso commerciale secondo te chiaro che io sto semplificando moltissimo oppure può essere anche un percorso di transumanza cioè quella vallata lì perché io la devo percorrere nel senso apponendo una domanda semplice no? è possibile che gli insediamenti militari diciamo possano controllare e gestire anche una transumanza le due cose coincidono o possono coincidere o no? non so se sono stato chiaro sì 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 no è chiarissimo allora il discorso della transumanza chiaramente mi rimanda a Dodona alla valle dei Buoi sicuramente alle festività che andrebbe indagata in questo senso sicuramente è molto interessante la collocazione delle fortificazioni in questo caso lungo la valle dell'Uros non lo so non quindi era nel senso che il tuo lavoro è proprio un punto di partenza appunto per poi distillare magari queste considerazioni ok è chiaro che è difficilissimo poi ovviamente la prima obiezione che faccio io stesso a me stesso è quello che c'è una stratificazione di funzioni non è così facile però secondo me infatti mi ero concentrato cioè la chiave di lettura finale che ho estremamente riassunto alla fine era questa appunto una non unicamente militare ma sicuramente di gestione del territorio tra l'altro anche l'economia uno può immaginare anche i tesori è noto che nelle fortificazioni vengono costituiti anche i tesoretti anche per finanziare le varie campagne militari quindi anche in questo senso secondo me le fortificazioni hanno senso dal punto di vista legate alla transumanza al tipo di vita ripeto no lungo la valle dell'Uros non ho adesso i dati sufficienti per poter avanzare delle ipotesi cioè sicuramente la via dei pellegrini che passava un po' più a ovest allora può essere connessa forse anche in un discorso di gestione economica in questo senso andrebbe indagata sicuramente meglio questo particolare discorso chiaro che a me affascina anche molto l'antropologia e l'etnografia anche perché voglio dire in luoghi così conservativi ma soprattutto dove la geografia non ti permette di fare altro nel senso che tu non anche puoi immaginare dei grandi cambiamenti dal punto di vista della strutturazione economica di questi territori qui la montagna è la chiave di lettura quindi insomma mi sembra che sono luoghi conservativi anche l'apporto anche insomma che decidi tu uno studio di questa transumanza è stato fatto cioè noi abbiamo una mappatura dei tratturi chiamiamoli così sì 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 alcuni c'è anche un articolo di dagaris sono tutti quelli che conosco io sono tutti quasi tutti quasi tutti in greco però sì sì sono stati fatti come come studi anche se negli ultimi anni si sta diciamo spostando l'attenzione più su anche una attività agricola cioè mentre negli anni passati ho letto che si dava una principale interpretazione su questo modo di vivere nomade e negli ultimi tempi si sta invece ribaltando non ribaltando però si sta interpretando anche in modo che per esempio Vizza non è più secondo la lettura odierna del tutto stagionale ma anche diciamo un villaggio sì legato alla transumanza legato alla però diciamo la sua articolazione così complessa non presuppone per forza un'occupazione stagionale e così anche per il bacino di Ioanni in realtà sono state fatte delle analisi sul sul suolo eccetera che hanno confermato la pratica dell'agricoltura fin da almeno dal quinto secolo come ho fatto vedere cioè quindi degli studi sono stati fatti in questa direzione che hanno smentito le teorie precedenti che dicevano che anche nel bacino di Ioanni non erano occupati e erano tutti nomadi fondamentalmente questa teoria è stata smentita bene no come dire i dati sono veramente interessanti e integrano perfettamente insomma quello di cui si occupa la scuola superiore di studi sulla città e il territorio ripeto perché noi stiamo questo seminario fa parte di questo ragionamento che abbiamo iniziato su questi due temi città e territorio senza limiti cronologici perché abbiamo l'altro incontro abbiamo parlato della Bologna moderna e contemporanea e adesso invece torniamo indietro dove siamo tornati nell'epiro dell'epiro ellenistico diciamo tardo classico dell'emistico chiaramente altro argomento sarebbe vedere come queste città cosa succede in età romana perché non tutte molte muoiono non sopravvivono ci sono casi molto diversi e dopo incomincia un'altra storia che non tratteremo questa sera anche perché vedo che alla fine ti abbiamo sequestrato per due ore sono già le sette quindi non so vedo se c'è qualcun altro che vuole approfittare ancora del nostro ospite vedo che si è collegato anche un collega Matteo Zaccarini che saluto ne approfitto a salutare anche chi ha partecipato e chi ecco non sono riusciti ecco ciao Matteo che è un grecista del nostro dipartimento di beni culturali ciao ciao a tutti scusate io purtroppo mi sono collegato proprio alla fine quindi ho solo seguito questo dibattito molto interessante solo che ero fuori ho fatto tardi non sono riuscito a seguire infatti io sono certo che questo tema può essere di tuo interesse è assolutamente infatti interessa parecchi guarderò la registrazione tanto relatore grazie a lei che è un dibattito cioè un progetto su Billis che come dire non posso dire che sta andando avanti in questo momento diciamo che avanza a fatica e che però insomma indaga anche questo sito straordinariamente importante e chiaramente non sono riusciti a collegarsi professor Giorgi e Julian Bogdani della Sapienza che hanno fatto poi le ricognizioni tutte intorno a Fueniche quindi ora tutti questi dati che incominciano a confluire insieme a quelli dell'Università di Macerata che ricordavi anche tu direi che adesso il dossier comincia a essere importante quindi si potrà ragionare con una bella base documentaria su tutti questa quantità enorme di siti io non so se il mondo greco magari se c'è un sistema così complesso anche nella Grecia propria diciamo nella Grecia insomma meridionale centrale insomma continentale non lo so forse è una caratteristica tipica dell'Epirro quello che ho visto che ho potuto vedere che appunto le fortificazioni e questo paesaggio militare che a me piace a non leggere in questo modo anche che rispecchia perfettamente diciamo il Basileus guerriero combattente che è Pirro che aveva poi tra l'altro essendo un ottimo strategico aveva capito compreso anche che erano cambiate le dinamiche i modi di gestire la battaglia e quello che piace a me sottolineare è che ora diventa il paesaggio protagonista cioè non è la città murata non è o almeno la polis che qui proprio non si può parlare di polis ma è il paesaggio che è fortificato è il paesaggio che diventa protagonista ora con soprattutto con Pirro che rappresenta proprio è anche un modo di rappresentarsi e di rappresentare il proprio regno sì no ma è molto interessante come dire poi noi ci occupiamo di immagine questa è un'immagine che probabilmente fa parte proprio anche della costruzione della propaganda cioè se tu cogli nel vero come io sono abbastanza sicuro anche la costruzione di questa immagine è un insomma fa parte della costruzione dei segni del potere no quindi esattamente come fanno i Basileis nei teatri quando insomma lo sappiamo bene no la funzione insomma della messa in scena del potere ora nasce ora con grandissima evidenza quindi è una bella chiave di lettura che chiaramente integra le altre no quindi non è detto che sia l'unica quindi però è molto interessante devo dire io ti ringrazio insomma di averla presentata sintetizzata resa disponibile con questa tua bella pubblicazione che adesso come dire è già in commercio tanto è pubblicata dalla Quasar vero il tuo lavoro sì 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 quindi è in commercio interrompo scusi perché volevo dire una cosa quando ha detto giustamente gli scavi di Macerata di Bologna quindi Giorgio e Bogdani che chiaramente il lavoro che ho fatto poi io ho utilizzato ampiamente i lavori editi dai vari gruppi di ricerca e tutti i siti fortificati che poi ho messo nelle mie carte generali dell'epiro è frutto del loro lavoro questo è importante sottolinearlo nel senso che rendere poi pubblicare i dati consente di di andare avanti è un po' stato del loro proprio un bel tema di ricerca che unisce un po' i lavori che facciamo insomma tutte le missioni in Albania in vario modo insomma anche se non io direttamente però insomma è un tema su cui discutiamo da tanti anni quindi insomma questa chiave di lettura mi va a integrare bene a me piace sinceramente e spiega diverse cose chiaramente insomma è chiaro che noi poi da archeologi abbiamo bisogno del dello scavo statigrafico che ci dà ancora una cronologia dopo siamo tutti felici e va bene però insomma stante quello che tu hai raccolto ad oggi possiamo tentare delle sintesi quindi insomma poi cambieremo idea tra poco non c'è nessun problema speriamo di andare a scavare lì e quindi se qualcuno coraggiosamente anche perché lo scavo in quei posti lì non è non è semplice quindi insomma bisogna proprio volerlo fare ma penso che anche professor Giorgi insomma avesse in mente qualcosa di simile per la caonia parlare di nostra competenza quindi bene allora ci aggiorneremo per le prossime per le prossime puntate io ringrazio ancora Gianmichele che è stato molto gentile ad accogliere il nostro invito saluto tutti i partecipanti e niente vi ricordo solo che questa registrazione sarà disponibile sul sito della scuola superiore grazie a tutti un saluto grazie a lei grazie a lei arrivederci arrivederci grazie arrivederci ciao a tutti grazie a tutti